Un buongiorno a tutti, bentornati, questo è l'ultimo episodio del corso di HTML, oggi andiamo a vedere in un unico episodio le basi delle tabelle e se facciamo qua next andiamo a vedere features avanzate per quanto riguarda le tabelle. Allora apriamo subito qua il nostro WSC, allora breve introduzione, non usare le tabelle come layout, faremo la nostra prima tabella, aggiungiamo i nomi dei campi, espanderemo poi le celle su più righe e colonne, vedremo gli stili comuni di una tabella, aggiungeremo descrizione alla tabella con caption, andremo poi a dare una struttura che abbia senso e poi vi farò vedere come nestare le tabelle. Allora le tabelle ovviamente se noi qua prendiamo la descrizione vengono usate da quasi da sempre praticamente per mostrare dati sono fondamentali, se farete applicazioni single page per voi stessi o per eventuali clienti o quant'altro per mostrare dati dovrete sicuramente fare uso massivo di tabelle tra anche grafici eccetera ma le tabelle sono un punto importante. Allora non usare le tabelle per fare layout, questo è un errore che io feci personalmente ok così come tanta altra gente all'inizio, non ricordo il mio primo compito a scuola da fare, dovevo fare un sito molto semplice, io mi ero incaponito, volevo fare qualcosa di graficamente decente ma non avendo conoscenze di CSS, di IV e altre cose mi sono messo a usare la tabella. Quindi se io prendo qua una tabella ad esempio, prendiamo qua questa tabella, avevo fatto qua un'unica riga dove ho messo un'immagine per fare l'header, poi qua avevo diviso in due, qua c'era questa colonna qui per fare, abbiamo visto aside, qua c'era la colonna per fare il main content, qua sotto c'era una riga per fare il footer e cose, non fatelo. Non fatelo, non è responsive, non è pensata per fare questo, evitatelo. Quindi arriviamo a fare la nostra prima tabella, ci basta fare table ok? E ci basta dare poi delle righe e delle colonne, quindi prima abbiamo la tabella, poi abbiamo delle righe, quindi tr, table, row, facciamo invio, mettiamo delle colonne, in questo caso td, td è la colonna, quindi e noi facciamo due. Voglio fare una tabella dove abbiamo la data e l'import che andiamo a spendere, quindi prendiamo così, tac tac, mettiamo qua una data a caso, mettiamo 01 01, poi mettiamo qua 02 01 e poi mettiamo qua magari 10 01. Mettiamo degli importi random che abbiamo speso, ok, 12 euro, facciamo 34 euro e voglio notare come più passano i giorni più spendo. Vabbè, allora, salviamo e questa è la nostra prima tabella. Allora, a voi non comparirà così, io ho messo dello stile, quindi vi faccio vedere come compare senza, andiamo a vedere, non è che si capisca molto, quindi se volete stoppare il video adesso per copiare lo stile, fatelo. Ok, abbiamo semplicemente aggiunto un bordo del padding e abbiamo allineato il testo a sinistra. Non preoccupatevi perché dopo questo corso HTML si aprirà quello di CSS, quindi molto probabilmente quando lo state guardando già ci sono degli episodi registrati ed usciranno a breve, se non sono già usciti. Quindi abbiamo dato un breve stile alla nostra tabella per capirci, ora però una persona che apre la nostra tabella non sa di cosa stiamo parlando, noi sì, ma magari ce lo dimentichiamo o qualcuno non lo sa. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo nominare i campi, le colonne, quindi apriamo una nuova riga, facciamo th che sta per table header, duplichiamo e scriviamo semplicemente data e importo. Perfetto, andiamo a vedere il risultato, data e importo, abbiamo qua le nostre date, abbiamo qua i nostri importi. Allora, adesso andiamo avanti, questo l'abbiamo fatto, espandiamo le celle su più righe o su più colonne. Potrebbe essere che noi, l'avete visto sicuramente magari su Excel o su Google Sheet o delle tabelle, anzi qua c'è un esempio sicuro, sono sicuro che qua c'è un esempio. Ecco qua, chiaro esempio, chiaro esempio vedete che questa cella occupa una colonna, ma occupa, ah scusatemi, occupa due colonne, vedete questa occupa due colonne, due colonne perché qua sono due, quindi questa occupa due colonne, ma occupa quattro righe. Ok? Quindi per ottenere risultati simili, cosa dobbiamo usare? Dobbiamo usare colspan, ve lo scrivo qua, colspan e rowspan, e vanno usate sulla cella, quindi su TD o su TH. Allora, quindi noi abbiamo i nostri importi, supponiamo che io, questo importo qua dell'1.1, ho fatto il reso, magari ho comprato da Amazon, ma hanno fatto il reso. Io per comodità potrei fare tante cose, ma in questo momento decido semplicemente di fare TD colspan 2. Tengo un attimo così vi faccio vedere, se faccio così, vedete che questa si allarga di due, due colonne perché abbiamo fatto col, quindi si allarga di due colonne e questo viene buttato fuori, così non è ottimale. Noi togliamo questo, ok? Togliamo questo e io voglio far sì che qua è stato effettuato il reso, quindi effettuato, effettuato il reso. In realtà in contabilità noi dovremmo avere traccia di tutto, non è che possiamo togliere una riga così, bisognerebbe farlo sotto, ma oppure bisognerebbe fare che il 15 abbiamo, anziché un'uscita, abbiamo avuto un'entrata di soldi. Però voglio solo farvi capire rowspan, quindi abbiamo questo qui, abbiamo effettuato il reso, quindi la colonna non ci serve più diviso in due colonne, l'abbiamo unita, abbiamo scritto effettuato il reso. Per quanto riguarda questo, potrebbe essere che noi abbiamo il 10 più importi. Quindi magari abbiamo fatto tre spese diverse, questo qua potrebbe essere un ristorante, Amazon, lo stadio, abbiamo fatto tre spese diverse, ok. Che cos'è questo fatto? Noi però magari, per una questione di leggibilità, vorremmo far sì che tutti gli importi spesi nella stessa data venissero aggregati. Per fare così, togliamo questo, togliamo questo, e vedete ci resta solo il primo, ci resta solo il primo td della data in questa tr, andiamo a fare un rowspan, e andiamo a fare due, no scusatemi tre, andiamo a fare tre. Di conseguenza vedete che la data ci prende l'altezza di tutti e tre gli importi che abbiamo speso la stessa data, ok. Quindi in questo modo noi possiamo allargarci, sia in verticale che in orizzontale. Il modo in cui l'ho fatto io è differente, perché vedete che qua in sei dati sono sfruttati tutti nello stesso modo, a parte i tipi di pianeti, qua vedete, questa parte è descrittiva. Mentre qua quando cominciano i dati effettivi non ci sono col span o row span. Però di solito viene usato qua in fase degli header, o qua a sinistra, dove andiamo a descrivere le righe. Però comunque vi ho fatto vedere come si può ottenere, questo qua non è altro che, se ispeziono, vedete, ha un col span di due, ok. Si vede, poi se invece andiamo qua magari, questo ha un row span di quattro, uno, due, tre, quattro. Quindi bene o male la userita è in formattazione, non nell'esempio che vi ho fatto io, però volevo che seguiste il mio ragionamento, credo si sia capito. Proseguiamo, proseguiamo e andiamo avanti con stile comune di una colonna. Noi potremmo voler, potremmo voler colorare la colonna degli importi, per vederlo meglio. Quindi facciamo col group, quindi chiamiamo un gruppo di colonne e questo si chiude. Facciamo col in base a quante colonne abbiamo, in questo caso ne abbiamo due. Portiamo giù con maiusc alt e giù, se fate maiusc alt e giù, ok, vi duplica l'elemento o la riga che avete selezionato. Noi in questa col, questa col, allora questa col si riferisce alla data, questa, questa col si riferisce all'importo. Noi andiamo qua e facciamo del CSS in linea che non vi ho ancora spiegato, ma non preoccupatevi, prendetemi alla lettera, background color, acqua, salviamo. Vedete che tutta la colonna, a parte questo che rifà riferimento alla data, tutta la colonna, anzi potremmo anche toglierlo a sto punto. Sì, possiamo togliere per una questione di visibilità. Vedete che tutta la colonna è diventata color acqua, quindi abbiamo fatto una cosa bellissima. Gli unici elementi che possiamo modificare con col group sono i bordi, il background, la larghezza di una colonna e la visibilità, ok? Andiamo avanti, vediamo come aggiungere descrizioni alla tabella. Allora, noi prendiamo caption, andiamo qua, facciamo caption, vedete che ce lo suggerisce, chiudiamo e scriviamo spese mensili gennaio. Salviamo. La nostra tabella, incredibilmente, ha un titolo, perché abbiamo messo caption e siamo andati a descrivere la nostra tabella. Questo è importante, è gennaio, sì, 0101, perfetto. Ora, cosa vogliamo andare a fare? Abbiamo messo la descrizione alla tabella, ora vogliamo dargli un po' di struttura con t-head, t-foot e t-body. Per far questo, andrò a rifare completamente la tabella e ci vediamo appena taglio. Ok, dunque, ho rifatto una tabella, andiamola a vedere, il risultato. Spese mensili di settembre. Allora, l'1 ho fatto una spesa settimanale, sono andato al supermercato, scusate qua, manca una E, e ho speso 30€. Sono vere queste cose? Assolutamente no. Ok, sono dati random. E il 12 di settembre ho comprato una lampada da tavolo da Amazon per 18€, per un importo toale, mamma mia quanti mi spell, per un importo toale di 48€. Allora, qua abbiamo un po' di cose. Abbiamo il caption che vi ho fatto vedere prima. Ok, poi qua abbiamo un call span. Che cosa cambia però? Cambia che ho messo delle strane cose, t-head, t-foot e t-body. Allora, t-foot ve l'ho messo qua perché la documentazione lo mostrava qua in alto. Io preferisco averlo sotto il t-body, perché effettivamente è sotto, ma anche se l'abbiamo messo prima, vedete che qua è prima, il t-foot va comunque sotto il body. Quindi abbiamo header, body e footer. Ok? Questo è, non cambia dove mettete il t-foot, non conta niente. t-foot ve lo mette sempre in basso. Allora, t-head è la table head, è la testa, dove qua mettiamo di solito la descrizione dei campi. Abbiamo il t-foot, dove possiamo mettere in questo caso, essendo dei dati, delle spese, abbiamo l'importo totale. Ok? Oppure potremmo mettere, potremmo mettere altro nel t-foot, potremmo mettere dei tasti per la paginazione, potremmo mettere... Ah, giusto, nel t-head potremmo avere anche un'allarga colonna tutto schermo, allarga tabella tutto schermo, metti dei filtri. Insomma, se voi prendete le tabelle di Google, se avete qualche prodotto su Google che usate, magari avete canale YouTube, piuttosto che Google Analytics o altre cose, hanno delle tabelle molto belle e in alto nel t-head hanno delle azioni per poter filtrare i dati, mentre invece nel foot hanno di solito la paginazione, poter andare avanti e indietro, scegliere il numero di item per pagina, cose del genere, insomma. Quindi, abbiamo t-body, t-foot e t-head. Questa cosa innanzitutto è importante per noi, cioè in realtà è solo importante per noi perché chi guarda la tabella non se ne rende conto. È importante solo per noi perché innanzitutto ci dà una struttura e la vediamo direttamente, non diventiamo scemi. Cioè anche se è capibile che queste sono head, questo è l'importo, ok, però immaginate una tabella abbastanza lunga o cose del genere, può diventare dispendioso, qua vediamo subito dove siamo. E soprattutto è fondamentale per quando poi faremo CSS, sarà molto semplice poter formattare tutto col CSS perché anziché avere tante tr e td, cioè noi potremmo avere senza usare questa struttura, avremo table, avremo tr, ok, con qua dentro th, prendetemi, non finisco tutto ma vi faccio capire, th, poi qua abbiamo dei td, ok, abbiamo dei td, e poi magari qua abbiamo un tr con dentro roba dove facciamo il footer e cose del genere. Vedete che sono tutte righe, quindi se noi volessimo andare a fare delle modifiche alla riga, dobbiamo andare a prendere specificatamente, mettere degli id particolari, delle classi, ora non mi diventate scemi perché come vi dico sempre non ve l'ho ancora spiegati, ma qua dovremmo andare a percepire riga per riga. Invece con la struttura che abbiamo fatto noi possiamo andare a prendere tbody, tfoot o thead direttamente, siamo andati a dividere, a sezionare la tabella, in questo caso potremmo fare tbody e andiamo a mettere delle cose specifiche, possiamo fare thead e poi possiamo fare tfoot. Quindi questa è la comodità del dividere la tabella in thead, tfoot e tbody, quindi molto comodo per noi per stilare e molto comodo anche da vedere e capire dove siamo. Piccola cosa a margine, innestar tabelle non è consigliato, non fatelo, non c'è un motivo per cui dovreste farlo, ma facciamolo vedere, ci basta prendere qua, fare una tabella completa, facciamo una table con una tr e mettiamo td, ciao, moltiplichiamo, salviamo, perfetto, vedete che abbiamo creato letteralmente una tabella qua dentro, ripeto non c'è un motivo per cui dovreste farlo letteralmente, quindi se potete evitatelo. Dunque siamo arrivati alla fine di questo corso HTML, io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi ricordo con gli abbonamenti sul canale se volete sostenermi direttamente. Da adesso quello che vi consiglio è continuate a praticare quello che avete imparato e cominciate ad andare a vedere il corso di CSS, quindi o c'è il corso che feci due anni fa, molto, dura un'oretta circa, ci sono tante informazioni, però abbastanza, come si può dire, abbastanza ridotto, oppure se è già uscito, controllate, c'è tutto il corso di CSS diviso in episodi. Io vi ringrazio e alla prossima, ciao ciao!